A Legend Cars Volvo espone auto molto importanti che hanno fatto la storia di questo brand e vicino a loro espone l'auto che farà il futuro del nostro brand, la Nova XC90, un ponte tra il passato e il futuro, il ponte che unisce le grandi sfide di Volvo per il futuro ma che hanno alla base l'autenticità di una storia di un marchio che ha fatto della sicurezza la propria bandiera più alta. Ovviamente la nostra presenza qui è anche un'ottima opportunità per avere tutto il nostro registro storico rappresentato con i nostri soci, con l'appuntamento annuale, quindi con il raduno annuale che quest'anno abbiamo approfittato per avere a Verona, avremo la possibilità di stare con i nostri graditissimi soci e con le loro splendide vetture d'epoca a fare una sfilata lungo le strade veronesi fino al Lago di Garda, dove ovviamente avremo la possibilità di pranzare tutti insieme e poi di rientrare, quindi un grande evento per un grande raduno, per un grande registro storico come quello di Volvo. Alla prossima! 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 Alla prossima!